... Doppio chilometro per questa quattro anni per anziani, non partente taxi a Via Lotto, ne rimancono in dodici, Tutankhamon che viene da una vittoria notevole, oggi c'è Marcellino Vecchione Insarchi, il più gettonato, il numero sette dello schieramento. Allineamento completato, più che buono l'allineamento, va via la macchina in veloci e poi anche ta. Dal centro Sayano Lodd si staglia nettamente e va al comando su Sharapogrif, l'inviene bene Tutankhamon che punterà sicuramente in avanti. E l'allievo di Marcello Vecchione viene anticipato però da Tuono e Tuono si presenta. Ma lì ha il completamento del lancio, con Tuono che persevera e sta passando, 15 scarsi il lancio, passa il Tuono ma viene via subito Tutankhamon. Tutankhamon si presenta sul nuovo leader, si è formato subito una seconda fila a largo, anche temibile a largo, 400 in 30 e così il favorito gradatamente passa al comando. Incombe l'ok temibile di Maisto che però si limita al salchi del favorito targato MRS. 45 abbondanti, 600, Tutankhamon controlla the situation agevolmente, temibile si adegua, poi Tuono, poi Sayano Lodd e siamo al completamento del mezzomiglio iniziale. Mezzomiglio in 1-1 e un po' di spiccioli, allargo anche il 12 di Tiago Dete e il 13 di Serafino. Al comando il numero 7 di Tutankhamon si completa e si chiude il primo chilometro, passato in 15 e un po' di spiccioli. I cavalli che affrontano la penultima curva, andatura brillante sotto questo solo splendente, qui all'ippodrome di Agnano e in tutta la città di Napoli, è l'ippodrome pieno di bambini e di papà e mamma, ha avuto problemi temibili che si elimina e finisce a tabellone. Allunga disinvolta Tutankhamon e prende vantaggio notevole frazione di fronte in 14 e 2, 500 alla meta, solo il Tuono cerca di non perdere il contatto dell'allievo di Vecchione. Cavalli sulla curva finale, poi il buon Serafino, Miglio in totale scioltezza e allunga, 1-59 scarsi e così Tuono cerca di ridurre il gap, Marcellino si stende, retta d'arrivo Tutankhamon con buon margine sul Tuono, retta d'arrivo Tuono cerca l'aggancio, il ragioniere vorrebbe, ma Marcellino controlla, poi viene via Scintilla, Tuono ultimo a fondo, il palo si avvicina, non c'è più tempo, Tutankhamon si salva. Ha fatto un po' tremare, ha fatto un po' paura, ha fatto un po' paura, un po' tremare, ma Marcellino con il suo formaggio speciale porta a casa un'ennesima vittoria. Ha la grande questo Tuono con il buon Gallucci, ha fatto paura, bene la Scintilla per il terzo, quindi per i numeri 7, 3, 10 e non vado errato, 7 più 3 fa 10 senza fare errore di matematica, vero Emilio? Vini allo studio.